A tutti piace dormire. È una tentazione irresistibile, alla quale cediamo sempre con piacere. La notte ci adagiamo nei nostri letti, paradisi di tranquillità e serenità, dove i nostri corpi si rilassano e intraprendono il lungo viaggio verso la terra dei sogni. Sfortunatamente non tutti riescono a vivere una simile esperienza di armonia ed equilibrio, spesso perché i loro corpi non trovano una comoda culla in cui riposarsi. La vita è un cambiamento continuo e tutti noi abbiamo bisogno di migliorare la qualità del riposo. Noi di Tecnogel Sleeping abbiamo deciso di ridefinire il concetto di sonno grazie ad un materiale che si muove e si adatta al corpo come una seconda pelle. Sembra un sogno, ma Tecnogel come una seconda pelle è in grado di modellarsi e conformarsi alle curve del corpo con grazia e senza alcun tipo di resistenza lo abbraccia e lo sostiene permettendo ad ognuno di godere del miglior sonno della propria vita. È la materia di cui sono fatti i sogni. Il nostro gel, grazie alla sua unica tridimensionalità, supporta e circonda ogni angolo del corpo. Questa è la ridefinizione del sonno. Circondatevi di comfort I nostri prodotti permettono di ridefinire il concetto di sonno riposante elemento essenziale per il nostro benessere mentale e fisico. Molti comparano l'esperienza di riposo sui nostri materassi con la sensazione di galleggiare sull'acqua. Fatevi abbracciare e collare dal materasso Tecnogel. Il vostro corpo sarà sostenuto da Tecnogel e sospeso senza alcun tipo di resistenza. Estasi è l'ultima proposta in fatto di materassi. Grazie allo strato di Tecnogel, che lo ricopre su tutta la superficie, ogni parte del vostro corpo sarà immersa nel comfort. Non esiste un modo migliore per viziarsi e godere di un sonno sublime, notte dopo notte. Piacere Ha uno spesso strato in Tecnogel, che permette al corpo di rilassarsi completamente. Il gel è presente sull'intera superficie, per garantire il massimo comfort ed un supporto totale. Un materasso che non solo piace, ma di cui ci si innamorerà a prima vista. Tutti i materassi sono progettati per garantire il miglior supporto ergonomico. Vi faranno sperimentare una piacevole sensazione di freschezza grazie alla buona conducibilità termica del Tecnogel, che favorisce la dispersione del calore e permette una riduzione della temperatura corporea. Lo spesso strato di Tecnogel vi farà percepire immediatamente la differenza. Cosa rende i nostri materassi così speciali? Deformazione 3D Tecnogel si deforma tridimensionalmente e reagisce differentemente rispetto alle classiche schiume, muovendosi nelle tre direzioni. Tecnogel si adatta alla struttura fisica di ogni individuo. La pressione del corpo si distribuisce uniformemente sull'intera superficie di contatto e genera una sostanziale riduzione dei picchi di pressione, con evidenti miglioramenti della circolazione sanguigna. Regolazione termica A differenza dei materiali isolanti comunemente utilizzati nell'industria del sonno, Tecnogel si caratterizza per una buona conducibilità termica. Tecnogel favorisce una riduzione della temperatura superficiale del corpo. Il calore prodotto dal corpo viene trasportato attraverso la massa del Tecnogel e disperso. Ventilazione Abbiamo sviluppato uno specifico design a torrette, per ottimizzare la ventilazione e la deformabilità tridimensionale del Tecnogel. Questo design innovativo presenta dei canali che favoriscono la ventilazione, una straordinaria circolazione dell'aria e la dispersione dell'umidità. Durata Tecnogel è un materiale unico, solido-liquido, totalmente privo di agenti volatili, in grado di integrare perfettamente la deformabilità tridimensionale di un fluido, con la memoria di forma di un solido. È un materiale totalmente atossico e stabile, che non indurisce e non si degrada, capace di mantenere nel tempo le sue proprietà elastiche e meccaniche. I test hanno dimostrato che è in grado di sopportare oltre 300.000 cicli di pressione, senza che ne siano compromesse le prestazioni. Test sul sonno e ricerche Test condotti su volontari sani hanno permesso di evidenziare che, dormendo su materassi realizzati in Tecnogel, vi è un aumento del 45% della fase del sonno detta a onde lente e una riduzione del 33% del tempo trascorso nella fase detta di sonno leggero. Inoltre, la temperatura della pelle e del materasso è risultata inferiore e il comfort del letto maggiore. Questi risultati hanno dimostrato che il materasso in Tecnogel favorisce un sonno più profondo e senza interruzioni. Un sonno riposante ha effetti positivi sul corpo e sulla mente, determina la qualità della vita. Una migliore qualità del sonno si traduce ai migliori giornate. Un cuscino è adeguato quando è in grado di adattarsi e conformarsi alle curve del vostro corpo. Quando si sceglie un nuovo cuscino, bisogna tenere in considerazione che la sua qualità può migliorare la vostra esperienza di sonno. Il cuscino Deluxe è indicato per coloro che amano i cuscini di forma classica. Il cuscino Anatomic favorisce il rilassamento del collo, dando beneficio e sollievo alle vertebre cervicali. Il cuscino Contour, adatto per i più esigenti, che cercano un supporto totale, senza alcun tipo di resistenza. Tutti i cuscini della linea Tecnogel Sleeping offrono un fresco e piacevole sostegno, grazie alla buona conducibilità termica del Tecnogel, che favorisce la dispersione del calore, mantenendo fresca la superficie della pelle. Tecnogel è un materiale tridimensionale, che permette di vivere un'esperienza di sonno unica. Lo strato in Tecnogel, combinato con una morbida schiuma a memoria di forma, si adatta in maniera graduale alle forme di ciascun individuo. Tecnogel è perfetto non solo per la sua applicazione nei prodotti per il sonno, ma è anche molto apprezzato da architetti, designer ed artisti, che lo utilizzano nelle loro opere come espressione del linguaggio dell'arte contemporanea. Affascinati dalle sue caratteristiche uniche, hanno scelto Tecnogel per comunicare i simboli e i valori della vita contemporanea, attraverso la realizzazione di opere esposte in occasione di importanti eventi internazionali. È grazie alla ricerca, all'innovazione, al design e all'arte, che nasce dunque una nuova esperienza di sonno. Tecnogel Sleeping. Sleeping Redefined.